Allora, dopo la stagione un pochettino travaiata dell'anno scorso, che però comunque ci ha regalato delle belle soddisfazioni sotto il profilo sportivo, oggi ricominciamo con un nuovo sponsor, però vorrei ringraziare prima l'AIR che dopo nove anni dopo nove anni ha fatto un passo indietro, comunque resta un nostro partner importante e grazie alla professionalità e ai preziosi consigli del direttore Preziosi ci è sempre vicino. Lo sponsor di quest'anno è, come tutti sapete, Citigas, azienda prestigiosissima di Avellino e noi siamo onorati di portare il nome Citigas in giro per l'Italia. Speriamo che con i risultati sportivi possiamo ripagare la fiducia datoci dall'azienda. Grazie.